Ciao a tutti! In questo video vi mostro come realizzo una foglia bicolor, la ricamerò con due tonalità di verde e con del cotone molinè, quindi fili divisibili e utilizzerò tre fili per volta. Inoltre andremo a lavorare con due aghi contemporaneamente. Come prima cosa sono andata a riportare i bordi della mia foglia con una matita su dell'ino a trama sottile e ho portato un capellino sul telaio. Inoltre ho tracciato una linea centrale che farà da linea guida al mio ricamo. Io parto con la tonalità di verde più scura, però è una scelta facoltativa, potete utilizzare i colori che volete. E vado a portarmi con l'ago il filato dal retro del tessuto sul diritto. Esco praticamente a metà altezza della mia foglia, quindi in corrispondenza delle mie linee guida esco con l'ago e il filato. Da questo punto vado a puntare l'ago nella parte alta della mia fogliolina in corrispondenza proprio della punta, però dalla parte opposta. Quindi sono uscita la prima volta con il filato sulla mia destra e adesso vado ad inserire l'ago nella parte alta però verso la mia sinistra e sfilo. E lascio l'ago e il filato sul retro del lavoro. A questo punto vado a prendere il secondo ago nel quale ho infilato il filato con una tonalità più chiara e mi porto sempre dal retro del tessuto sul diritto, alla stessa altezza di uscita del filato scuro, però dalla parte opposta, quindi se prima sono uscita sulla mia destra adesso esco sulla mia sinistra. Sfilo e vado a fare la stessa operazione che ho fatta in precedenza, però nel senso inverso, quindi vado a puntare l'ago con l'altra tonalità nella parte alta della mia fogliolina, questa volta però da sinistra verso destra e sfilo. ok e lascio anche questa tonalità di filo con l'ago sul retro del lavoro. Ora vado a riprendere di nuovo il mio verde scuro ed esco una trama al di sotto del primo punto di uscita. Quindi ritorno sul mio lato destro ed esco nuovamente. Vado a puntare di nuovo nella parte alta sinistra, sempre scendendo però questa volta di una trama e seguendo sempre le mie linee guida. Ok ora lascio di nuovo il verde scuro, vado a riprendere il verde chiaro e faccio la stessa operazione dall'altra parte. Quindi esco con l'ago una trama al di sotto del primo punto di uscita, e vado a puntare di nuovo l'ago nella parte superiore opposta ad una trama di distanza. In questo modo procederò la lavorazione di tutta la mia foglia alternando i colori, in modo molto semplice. Bisogna solo fare attenzione ai vari passaggi. Grazie. L'unica cosa a cui dovete fare molta attenzione è di non far ingarbugliare i fili sul retro del lavoro, quindi tenerli sempre separati. potete vedere man mano che andiamo a realizzare i punti. Quindi questa parte iniziale diciamo dei punti lanciati inizia a coprirsi con gli altri punti e quindi non li vedremo più. Quindi procedendo sempre con la stessa tecnica di alternanza dei punti e dei colori ci avviamo seguendo le nostre linee guida verso la fine della foglia e come potete vedere appunto i primi punti iniziali vanno completamente a coprirsi con gli altri punti e quindi la foglia risulterà bicolor. metà di un colore e metà di un altro. Chiaramente potete scegliere i colori che preferite. Una tecnica molto molto semplice, adatta anche ai principianti. Quindi occorre solo un po' di tempo e di pazienza e soprattutto di precisione, ma non è molto complicata. Poi tra l'altro mi piace particolarmente perché dà anche una sorta di rilievo alla foglia. Ok, andiamo a fare gli ultimi punti. Ultimo punto di verde scuro. E ultimo punto di verde chiaro. Ecco qui. Ora la nostra foglia è ultimata. Spero come al solito che questo video vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao! Ciao!